Aia, che è successo ad Hamilton? Ma come cazzo ha fatto a non rompere Hamilton? Come cazzo ha fatto a non rompere Hamilton? Non ha senso, non ha senso, non ha senso, che sto facendo? Non ha senso, come ha fatto a non rompere Hamilton? Come? Dov'è? Come ha fatto a non rompere Hamilton? È impossibile Io qui non so dove Si è buttata all'ultimo Ok Sì, per una botta a 3 km ora in muoio? Ma come cazzo ha fatto? No, ma Povero Mazepin però Povero Nikita Questo non va bene No, mi fermo qua E lo aiuto anche perché chiamo la safety car Che sta facendo? Mazepin Che sta facendo Mazepin? Aveva rallentato perfettamente anche Norris E Bottas Ma porca miseria Sì, sì, si è rotta l'ala Eh, allora va bene A Bottas Ma che è successo? Vediamo un po' perché voglio capire a Bottas che succede Grazie a tutti Grazie a tutti